Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate qui sul mio canale. Oggi vorrei fare una chiacchierata con voi e parlare di quali sono i giorni festivi dell'anno in Italia. Per giorno festivo si intende un giorno di festa in cui non si lavora e non si va a scuola. Credo che sia una parte importante della cultura, no? E quindi ho deciso di parlarvene, soprattutto perché siamo ancora nel mese di gennaio. Questo è un argomento molto adatto, secondo me, al primo mese dell'anno. Davanti a me ho la mia agenda, su cui mi sono segnata tutte le festività. Allora, la cosa più bella da fare secondo me a inizio anno e quando si ha un'agenda nuova è cominciare a segnare quali sono i giorni di festa durante l'anno, vedere quando cadono per vedere se ci saranno dei ponti lunghi o, come dire, dei momenti di riposo durante l'anno. Allora, iniziamo subito con il primo mese dell'anno, che è gennaio. Allora, a gennaio ci sono due giorni festivi. Ovviamente io non conto le domeniche, tutte le domeniche sono festive in Italia. E una cosa da sapere sui giorni festivi, per esempio a Roma, quando è festivo non si vaga il parcheggio. Questa potrebbe essere un'informazione molto utile. Per esempio, tutte le domeniche non si pagano le strisce blu in centro. In centro, ma in qualsiasi parte della città, non si paga il parcheggio la domenica, perché è giorno festivo. Va bene, questa era una chicca per iniziare bene la chiacchierata di oggi. Allora, come dicevo, a gennaio ci sono due giorni festivi. Il primo è il primo gennaio, che è capodanno. Il nome stesso di questa festività è interessante da analizzare, perché capodanno. Capo, in questo caso, significa inizio di anno. Quindi il primo gennaio è capodanno, è l'inizio dell'anno. La parola capo ha anche un altro significato, cioè testa. Quindi il capo, la testa. E quest'anno, quindi parliamo del 2024, il primo gennaio cade di lunedì. Quindi quest'anno, l'anno nuovo è iniziato di lunedì. Il secondo giorno festivo di gennaio è il 6 gennaio, che è l'Epifania, il giorno della Befana, più popolarmente detto. Se siete interessati a scoprire di più sulla festa dell'Epifania, su come festeggiamo l'Epifania in Italia, vi lascerò il link alla lezione relativa nella descrizione del video, qui sotto. Sul mio canale troverete anche un video dedicato ai festeggiamenti del capodanno. A gennaio quest'anno succede anche un'altra cosa, anche se non è in realtà un festivo, però è interessante secondo me parlarne, perché il 28 gennaio, domenica 28 gennaio quest'anno, inizia la stagione del carnevale. Inizia il carnevale, il 28 gennaio quest'anno. Il carnevale è un momento dell'anno molto importante qui in Italia, sono sicura che conoscerete il carnevale di Venezia, il carnevale di Ivrea, ci sono tantissimi carnevali in tutta Italia. Se riesco vorrei fare un video dedicato a tutti i carnevali d'Italia. Nel frattempo potete guardare il video che ho fatto in passato sul carnevale, se volete, perché il carnevale in Italia è un po' diverso dagli altri carnevali in giro per il mondo, nel senso che è molto legato al teatro del Cinquecento, ancora. Alcuni personaggi del carnevale, per esempio Pulcinella, Arlecchino, erano le maschere del teatro del Cinquecento, e quindi in quel video vi parlo di tutte queste cose. Secondo me è interessante, se vi piace il carnevale andatelo a vedere. Comunque, questo è quanto per il mese di gennaio. Passiamo a febbraio. A febbraio non ci sono giorni festivi, però ovviamente ci sono i giorni più importanti del carnevale, che sono giovedì grasso e martedì grasso. Quest'anno giovedì grasso cade l'otto febbraio, mentre martedì grasso cade il tredici febbraio. Subito dopo martedì grasso c'è il mercoledì delle ceneri, che è il 14 febbraio e quest'anno coincide con San Valentino, la festa degli innamorati, che non è giorno festivo in Italia. Un'altra cosa che vorrei menzionare, perché secondo me è importante, per quanto riguarda la cultura pop italiana, è che febbraio è anche il mese del Festival di Sanremo. Quest'anno Sanremo inizia il 6 febbraio e si conclude il 10 febbraio, quindi da martedì a sabato. Vedremo che cosa succederà quest'anno al Festival di Sanremo. Quindi abbiamo detto che a febbraio non ci sono giorni festivi. Passiamo al mese di marzo. Quest'anno, a marzo, c'è la Pasqua, l'ultimo giorno del mese in realtà. Quest'anno Pasqua cade il 31 marzo, domenica 31 marzo. Una data importante a marzo, che però non è giorno festivo, è il 17 marzo, che è l'anniversario dell'Unità d'Italia. E quindi volevo menzionarlo, perché comunque per la storia italiana è una data molto importante. Il 17 marzo 1861 l'Italia viene unificata, quindi diventa il Regno d'Italia. Non è giorno festivo, però si celebra questa giornata e ci sono vari eventi che vengono organizzati per l'occasione. Passiamo al mese di aprile. Ad aprile ci sono due giorni festivi. Il primo è il primo aprile quest'anno, che è Pasquetta, quindi il giorno dopo la Pasqua è Pasquetta, che sarebbe il lunedì dell'angelo, ed è festa. Il secondo giorno festivo ad aprile è il 25 aprile, che quest'anno cade di giovedì. Quindi il 25 aprile è la festa della liberazione dall'occupazione nazifascista. Poi andiamo avanti al mese di maggio. Allora, a maggio abbiamo un solo giorno festivo, che è il primo maggio, cioè la festa dei lavoratori. Quest'anno il primo maggio cade di mercoledì, quindi proprio in mezzo alla settimana. Non c'è possibilità di fare ponte. Con il mercoledì è un po' difficile fare ponte. Di solito i ponti si fanno con il martedì, e quindi ci si prende il lunedì libero, per esempio, oppure si fa ponte quando la festività accade di giovedì, e quindi si prende poi il venerdì libero. Con il mercoledì... E questo è tutto per il mese di maggio. Passiamo a giugno. A giugno c'è solo un giorno festivo, che è il 2 giugno, ed è la festa della Repubblica. Si festeggia l'anniversario della scelta della Repubblica al referendum del 46. Poi passiamo al mese successivo, che è luglio. A luglio non ci sono giorni festivi. Ad agosto però c'è un giorno festivo, ed è ferragosto, il 15 agosto, che quest'anno cade di giovedì. Quindi dal 12 quest'anno al 18 è di ferie per tutti, solitamente. E poi, diciamo, si continua a lavorare prima o dopo. Però di solito la settimana di ferragosto è proprio la settimana di vacanza estiva qui in Italia. A settembre non ci sono giorni festivi. Settembre di solito è il mese in cui rinizia tutto, riniziano le scuole e soprattutto. Quindi diciamo, si fa combaciare l'inizio di tutto con l'inizio delle scuole, solitamente. Solo scuole elementari, medie e liceo. Di solito le università, i corsi alle università iniziano ad ottobre-novembre. Poi, ad ottobre non ci sono giorni festivi. Quindi per trovare il giorno festivo successivo dobbiamo arrivare al mese di novembre. Il primo novembre è festivo, è ogni santi. E quest'anno ogni santi cade di venerdì. quindi c'è un fine settimana lungo. Venerdì, sabato e domenica. Il 2 novembre poi è la commemorazione dei defunti. Poi ci spostiamo a dicembre, siamo arrivati all'ultimo mese dell'anno in cui abbiamo vari giorni festivi. Allora, il primo è l'8 dicembre, che è il giorno dell'immacolata concezione ed è la seconda domenica di avvento. Poi ovviamente abbiamo 25 e 26 dicembre, il giorno di Natale e santo Stefano. E poi si ricomincia l'anno. vorrei aprire un capitolo sulla questione dei santi patroni. Ogni capoluogo di provincia in Italia ha un santo patrono, ovvero un santo protettore della città. Per esempio, Roma ne ha due, San Pietro e San Paolo. Quindi il 29 giugno, che è appunto il giorno di San Pietro e Paolo, è giorno festivo a Roma. Quindi i giorni in cui si festeggiano i santi patroni sono giorni festivi per quella città. Quindi, come dicevo, il 29 giugno è San Pietro e Paolo a Roma e quindi a Roma è giorno festivo. Perché San Pietro e San Paolo sono i santi patroni di Roma. Facciamo un altro esempio. Il santo patrono di Milano è Sant'Ambrogio, che si festeggia il 7 dicembre. E quindi il 7 dicembre è giorno festivo a Milano. Loro hanno due giorni di festa attaccati, perché appunto hanno Sant'Ambrogio il 7 dicembre e poi l'8 dicembre è invece festivo per tutto il paese, per tutta Italia. Ok? Quindi questo è interessante. da sapere, anche perché appunto se vi trovate in una determinata città ed è il giorno in cui si festeggia il santo patrono di quella città, potreste partecipare agli eventi e alle celebrazioni. Quindi dal punto di vista culturale e dell'esperienza di viaggio potrebbe essere una cosa interessante. Vogliamo fare altri esempi? a Firenze il santo patrono è San Giovanni Battista che si festeggia il 24 giugno e quindi il 24 giugno è giorno festivo a Firenze. A Siracusa la santa patrona è Santa Lucia che si festeggia il 13 dicembre. A Palermo la santa patrona è Santa Rosalia che si festeggia il 15 luglio. a Trieste il santo patrono è San Giusto che si festeggia il 3 novembre e infatti mi ricordo che quando studiavo a Trieste il ponte di ogni santi era molto più lungo a Trieste perché appunto si faceva primo novembre due novembre e poi tre novembre che era festa solo a Trieste. Torino condivide il santo patrono con Firenze quindi il 24 giugno è giorno festivo anche a Torino. A Venezia il santo patrono è San Marco Evangelista che si festeggia il 25 aprile quindi combacia con il giorno della liberazione eccetera eccetera quindi avete capito diciamo il punto della questione. spero che questa visione generale dei giorni festivi in Italia sia stata interessante per voi spero di aver fornito delle informazioni utili e io vi ringrazio come sempre per aver guardato questo video e noi ci vediamo nel prossimo a presto ciao ciao